salve bentornati al tg lego vi ricordo che potete mandare le vostre collezioni a vitojuvara chiocciola gmail.com un solo posto disponibile mi raccomando affrettatevi così chiudiamo un altro episodio e lo pubblico allora partiamo oggi a no facciamo prima un punto sto per finire il set di lego indiana jones adesso subito dopo questo tg in realtà dovreste già vedere una live durante questo tg in cui sto finendo di montare questo e monterò anche l'altro set quello piccolino di indiana jones dopodiché abbiamo in arrivo le minifigure di della disney la terza serie che dovrebbero arrivare il prima possibile e poi abbiamo la lista di set di maggio che uscirà a fine mese altre cose vedremo con degli short non mancate le live però che sono molto simpatiche o su youtube qui o su twitch ci vediamo adesso qualche immagine ancora ufficiale ne abbiamo già parlato la volta scorsa del technique peugeot 9x8 4256 primo maggio 1775 pezzi 200 euro è un bellissimo set in molti mi avete chiesto se intendo comprarlo no perché i technique tendo tranne le supercar a non farli però è molto bello devo dire che tra i due preferisco ancora di più la ford gt però è un bel set mi piace un sacco e anche qui la qualità si vede che è migliorata un sacco una immagine di lego friends beach adventure park 41737 che verrà rilasciato a giugno a 1348 pezzi ed ha un numero differente di attrazioni il set includerà le mini doll di zack nova charlie endia chiunque essi siano chiudiamo invece con l'annuncio di oggi ovvero dei set di sonic ne sono stati annunciati 4 in uscita d'agosto ma non sono stato annunciati i prezzi anche se qua ce li ho in realtà quindi probabilmente sì non ho visto proprio un annuncio ufficiale vabbè con la data precisa forse prima agosto in realtà abbiamo sonic speed spare spare challenge 76 990 292 pezzi 35 dollari tates workshop intornato plane 376 pezzi 40 dollari emis animal rescue island 388 pezzi 50 dollari e sonics green hill zone loop challenge 76 994 802 pezzi 100 bombe come potete vedere dalle immagini sono un'altra linea dedicata ai bambini più o meno come quella di mario forse visto che ci sono le minifigure per qualche età un po superiore a quella di mario non si una serie molto giocosa ma veramente poco 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 interessante e neanche troppo economica se devo dire quindi il mio interesse è completamente zero detto questo era un tg molto veloce mi raccomando commentate dite la vostra scrivete c'è stato un messaggio ieri assolutamente incomprensibile che dobbiamo ancora capire ma ci stiamo lavorando grazie a tutti arrivederci alla prossima ci sentiamo ciao a tutti ciao